La Lombardia vira sul nero e sul sommerso. Secondo una ricerca del Centro Studi Sintesi pubblicata sul Sole 24 Ore, cresce la tendenza a deludere il fisco anche nella regione motore dell'economia italiana. I dati mostrano un significativo peggioramento sui parametri, in particolare per quello che prende in considerazione le differenze tra redditi e benessere economico dove i punteggi bassi indicano un rischio di evasione elevato. In pratica gli esperti hanno preso alcuni beni di lusso come ville, auto, barche e depositi bancari e li hanno incrociati per capire in che misura i redditi ufficiali possono sostenere e giustificare questo genere di consumi. Nella speciale classifica la Lombardia, che nel 2006 si attestava al secondo posto tra le regioni virtuose, ora è scesa al sesto posto con una delle performance peggiori. Il coefficiente da 141 va giù di 18 punti fino ad arrivare a quota 123. Alle spalle di Emilia Romagna, a Friuli Venezia Giulia Piemonte e Trentino Alto Adige e Marche. E l'impressione che l'evasione cresca è anche dei milanesi. I blitz non bastano a contrastare il fenomeno e spesso sembrano quasi specchietti per le allodole. Meglio quindi intensificare i controlli senza operazioni spettacolari, lavorando in silenzio. Non c'è che la strada di intensificare i controlli, sempre di più. Secondo me andremo proprio fatto una riforma fiscale alla base per poter lottare veramente nel vero senso della parola con l'evasione. Perché tutti questi blitz così, sì per carità trovano, però voglio vedere tra sei mesi se quelle persone continuano a reiterare quello che stanno facendo. Tanto guardi vanno avanti lo stesso a fare tutti uguali. Ci sono gli evasori totali, non li beccano. Siamo italiani, quindi l'evasione è la nostra specialità. Secondo lei in questi mesi sono aumentati i controlli, sono solo specchietti per la lodo, le blitz? No, sono aumentati, sono aumentati, c'è più controllo, non sono abbastanza.